Ciao a tutti, io sono Ilaria e questo è il primo video del mio nuovo canale YouTube Identior Lifestyle. Per chi non mi conosce, quindi per chi non viene direttamente dal blog, mi presento molto brevemente. Sono Ilaria Chiaratti, sono una stylist, una blogger e una fotografa. Da cinque anni ho questo blog che si chiama appunto Identior Lifestyle e che parla di ispirazioni per la casa, di interior design, di styling e anche di uncinetto che è una mia grande passione. Da qualche anno infatti gestisco anche un piccolo negozio online di filati. Ho deciso dopo cinque anni di blogging di aprire anche questo canale YouTube per offrire altri contenuti ai lettori che possano quindi andare a compensare, a implementare alcuni argomenti di cui parlo già nel blog. Quindi vedrete alcuni do it yourself, ci saranno recensioni di libri, ci sarà insomma una visuale un po' diversa rispetto a quella che di solito si è abituati a vedere nel mio blog. Non divento una vlogger, quindi non mi metterò a parlare di ricette o a farvi vedere prodotti, quindi la mia linea editoriale rimane molto coerente con quello che è il mio blog. Vi parlerò di le cose che mi piacciono, vi farò vedere magari alcuni behind the scenes di casa mia, quindi quello che sta dietro magari è uno scatto fotografico e anche il casino che ci sta dietro. Quindi insomma una visione un po' diversa che spero possa piacervi e quindi vi auguro una buona visione e restate con me per il prossimo video. Ciao! Grazie!